Altro giro, altra corsa, non c'è un attimo di tregua nel campionato di Serie D. Tutto è pronto per la nona giornata di campionato in programma domenica con inizio alle ore 14.30 in concomitanza con il cambio dell'ora. Il Prato reduce dal pareggio in estremis sul campo di Gavorrano per 1-1, cerca di dare continuità alla propria striscia positiva di risultati. Due consecutivi, una vittoria e un pareggio, ospitando al campo sportivo Adonelli di Montemurlo lo Scandici. Un derby atteso con la squadra di Alessio De Petrillo che affronterà il fannino di coda fiorentino allenato da Claudio Davitti. Lo Scandici infatti reduce dal rovescio interno con la Stangiovannese nel quale ha incassato una sconfitta per 5-2. La formazione fiorentina è in crisi di gioco e di risultati e la partita con il Prato potrebbe diventare decisiva anche per la panchina traballante del tecnico Davitti. Intanto la società dello Scandici ha fatto le prime mosse mettendo fuori rosa tre senatori, gli ex Bianco Azzurri, Vangi, Gargiulo e Gianotti. Tre big fuori gioco, segnale che le acque in casa Scandici sono davvero agitate. Il Prato invece cerca il bis, ovvero la seconda vittoria consecutiva in casa. Il tecnico Alessio De Petrillo avrà la possibilità di schierare il giovane portiere in quota, il greco Dermalia, tesserato in settimana dalla società laniera. L'opzione portiere in quota, oltre a segnare l'interruzione del rapporto nel prossimo mercato di riparazione con Matteo Brunelli, consentirà al tecnico del Prato di avere un'opzione in più per quanto riguarda gli over da schierare tra i giocatori di movimento. Tra i Bianco Azzurri in fase di recupero il difensore Cianna Mè e il centrocampista Marini, mentre staranno valutate nella rifinitura pregara le condizioni di Di Filippo e Tomi acciaccati, mentre staranno sicuramente assenti, quasi eccalosi. Insomma un Prato avanti tutta alla ricerca di una vittoria per non perdere contatto con le parti alte della classifica.